Il conflitto in Ucraina e la situazione del Medio Oriente sono stati al centro del lungo colloquio tra Papa Francesco e il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, ricevuto in udienza nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno. Nei 50 minuti di colloquio privato, nella biblioteca del Palazzo Apostolico, il Papa, riferisce il portavoce vaticano padre Federico Lombardi, ha affermato che occorre impegnarsi in un sincero e grande sforzo per realizzare la pace in Ucraina. Il Papa e il Presidente Putin hanno convenuto sull'importanza di ricostruire un clima di dialogo e che tutte le parti si impegnino per attuare gli accordi di Minsk. Essenziale anche l'impegno per affrontare la grave situazione umanitaria, assicurando fra l'altro l'accesso agli agenti umanitari e con il contributo di tutte le parti per una progressiva distensione della regione. Per quanto riguarda invece i conflitti in corso nel Medio Oriente, sul territorio della Siria e dell'Iraq, è stata ribadita l'urgenza di perseguire la pace con l'interessamento concreto della comunità internazionale, assicurando nel frattempo le condizioni necessarie per la vita di tutte le componenti della società, comprese le minoranze religiose e in particolare i cristiani. Al termine dell'udienza il Presidente Putin ha donato al Papa una rappresentazione in ricamo della famosa Chiesa di Gesù Salvatore, mentre il Pontefice ha donato il medaglione dell'artista Guido Veroi, che rappresenta l'angelo della pace e invita alla costruzione di un mondo di solidarietà e di pace fondato sulla giustizia e una copia dell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium.